Cosa diceva Carlo Ginzburg? Una bellissima recensione, ce n'è un'altra bellissima anche di Rossana Rossana che non ho portato di mano, ma mi interessava un passo di questa. Ci troviamo, dice Ginzburg, di fronte all'ennesima variazione sul tema della riforma protestante mancata, il Tribunale della Docenza è un libro sul fatto che l'Italia non ha avuto la riforma protestante, che sarebbe la mancata riforma protestante all'origine delle lebolezze morali e politiche italiane, neanche per sogno, dice Ginzburg, anziché da quest'idea cara a Edgar Kiné, a Francesco De Santis, a Piero Gobetti, degli odierni ripetitori, e meglio Taceve, prosperi parte da ciò che è stato, non da ciò che sarebbe potuto essere. E questo è un nodo fondamentale per capire il Tribunale della Coscienza. la riforma mancata, l'Italia non ha avuto una riforma protestante e questo all'origine dei vizi o forse anche delle virtù del nostro paese. Bene, tra il 43 e il 47 il paradigma della riforma mancata davanti a una rivoluzione che non ci fume anche davanti al collasso dello Stato è tornata forte. Ed è tornato forte, come dire, il guardare alla storia d'Italia da una prospettiva che è proprio delle minoranze liberali e azioniste di questo paese, per cui l'Italia è un paese mancato. Un paese mancato è il titolo di un libro di storia contemporanea che è uscito due anni fa per Donzelli. Un paese mancato. Descrive la storia dell'Italia repubblicana. Cosa c'entra con un libro sull'inquisizione? Apparentemente nulla. Ma si apre il libro e si narra tutto della storia dell'Italia repubblicana, si narra degli azionisti, di lotta continua, di molti tentativi di riforma di questo paese, ma non si parla quasi per nulla né dell'egemonia cattolica né dell'egemonia comunista, cioè del 66%, 70% dell'elettorato di questo paese. E si passa sugli anni 70 dicendo che sono state un'epoca in cui le riforme non si sono fatte. Per chi appartiene alla mia generazione, negli anni 70 appaiono come uno dei pochi tempi in cui qualche riforma si è fatta in questo paese. Per quanto sgangherata, ma riuscita, si pensi solo alla riforma sanitaria. Però c'è stato lo statuto dei lavoratori. Ebbene, c'è per Guido Crimes, come per chiunque mutui questo paradigma del paese mercato, qualcosa che avrebbe dovuto essere il non è stato. Ora, nel 500 italiano avrebbe potuto esserci la riforma e non c'è stata. C'è stata invece la fondazione dell'egemonia cattolica. Ci piace? No, probabilmente. Soprattutto per gli effetti che ne vediamo oggi nella vita pubblica del nostro paese. Tuttavia questa è stata la storia d'Italia. È stata solo una storia di repressione. Adriano Prosperi ci ricorda che l'egemonia non si costruisce mai solo reprimendo, ma anche persuadendo. E la Chiesa Cattolica ha mosso certamente la crudele inquisizione, come la definisce Prosperi. Cioè ha fatto fuori i suoi oppositori nei primi quarant'anni dell'inquisizione romana e non c'è nessuna indulgenza nella natazione che Prosperi fa di questo quarantennio terribile all'insegna della linea politica di Paolo IV e V, due pari inquisitori. C'è un pauso molto bello, che non mi ricordavo, di Torquato Tasso, che si trova a Mantua nel 1568 nel pieno di una repressione terribile, senta l'arrosto delle carni e dice ma qui se continuano di questo passo inquisiranno tutto il paese. Erano anni terribili. Ma il trionfo della Chiesa, la sua egemonia su questo paese, che è stata anche un'egemonia che ha imposto in qualche modo conformismo, questa è una cosa che viene fuori moltissimo l'agente tribunale della coscienza, non avrebbe potuto funzionare senza che ai mezzi della repressione si accompagnassero ben altre cose, senza che si accompagnasse una politica intanto di conversione. Questo termine compare a pagina 8 dei tribunali della coscienza, oggi c'è un'intera corrente storiografica che ragiona sul problema delle conversioni, dei passaggi di religione metamoderna. E' un filo conduttore del tribunale della coscienza, un filo conduttore della ricerca di Adriano Prosperi. Se uno legge giustizia ben data, il problema è di nuovo convertire, convertire fino al momento del patibolo. Come si converte? Come si passa? Come? Attraverso la conversione si persuade. Ed è un libro sulla fede italiana, sulla fede degli italiani, quello è a mio parere il capitolo più bello di questo testo, perché ci ricorda che se i paesi protestanti insistettero sulla fede, la fede che salva, la Chiesa Cattolica continuò con i suoi istituti di carità a battere sulla carità. Che c'è una distinzione forte tra una religione, per dirla con un grande storico che si chiama John Bossi, tra una religione della parola, della testa, del testo scritto che è la religione protestante e una religione della devozione, del cuore, della carità, come diventò il cattolicesimo in età moderna. Un cattolicesimo che si femminilizzò e che supplì, come dire, ad alcune carenze disciplinari molto care agli stati italiani, stati deboli, incapaci di costruire una polizia delle coscienze. Allora quella polizia delle coscienze fu delegato a un potere, quello della Chiesa, che era una holding italiana, basta guardare il collegio Cassino Alizio, basta guardare la sequela dei papi fino a Giovanni Paolo II, tutti italiani, era una holding di famiglia italiana, il papato. E al papato ci si rivolse come agenzia disciplinare in età moderna. Si puntò soprattutto sulle donne, dicevo, sulla femminilizzazione e dice uno dei punti di intersezione di una storia che Adriano Prosperi racconta, la storia dell'egemonia dell'inquisizione sull'istituto della confessione, ma anche del modo con cui questa egemonia si volse poi a un certo punto in, come dire, nell'assumere anche le forme della confessione come un modo di perdonare colpe minori, di assolvere attraverso un meccanismo che era un meccanismo di delazione. I confessori evitavano di assolvere gli eredici occulti che si presentavano davanti a loro, rimettendole al tribunale di foro esterno, l'inquisizione. Ma lì poi la spontanea comparizione non era spontanea, ci si presentava davanti all'inquisitore e si prendevano pene minori che hanno quasi, che ricordano le pene del confessionale, penitenze, processioni, preghiere da recitare. Si puntò sulle donne, in un'epoca in cui la direzione spirituale, grande invenzione dei gesuiti, portò a uno stretto rapporto tra confessori e donne e alla femminilizzazione della Chiesa Cattolica. Un rischio, la vicinanza tra donne e preti, che sfociò poi in un reato, la sollecitazione inconfessionale, un reato sessuale, che l'inquisizione fece diventare un reato ereticale. Perché? Per difendere le donne? Boh, su questo c'è qualche pubblico che può venire leggendo questo testo. Si cita un brano del Settecento di un uomo, di un grande canonista che poi sarebbe diventato Tata, Prospero Lambertini, viene detto 14, che a un certo punto pone un caso di coscienza di sua età. Ci dice che succede se una donna viene molestata in confessionale schiaffeggia un prete. Ora non si poteva schiaffeggiare un prete, si prendeva la scomunica. Ma si poteva in quel caso giustificare la donna perché l'aveva schiaffeggiato, Prospero Lambertini dice no, non possiamo permettere alle donne di schiaffeggiare i preti. Quindi può andare a denunciare il barroco, anzi deve farlo, ma schiaffeggiare un prete non si può.